Siamo a metà maggio e ho testa e cuore al ritorno al lavoro di milioni di italiani. Febbraio è lontano. Semplicemente non abbiamo candidati nostri, il Quirinale non dovrebbe avere candidati di parte. Mi limito semplicemente a ricordare che se il Presidente Draghi ritenesse riproporsi, ovviamente avrebbe il nostro convinto sostegno. Però da qui a febbraio manca tanto tempo e quindi, a differenza del PD, che a proposito del Bandierina ha almeno 10 candidati di partito come Presidente della Repubblica, noi aspettiamo il tempo dovuto e se Draghi ritenesse di fare quella scelta avrebbe il nostro convinto sostegno e lo diciamo fin da oggi. Il suo orizzonte è il voto anticipato dopo l'elezione del Presidente della Repubblica? Il mio orizzonte è restituire lavoro, serenità e salute agli italiani, poiché sia il 2022 e il 2023 non è una mia preoccupazione. Stiamo lavorando su questo. Fortunatamente abbiamo archiviato i tempi di Arcuri, di Conte, di Casalino, dell'Azzolina e c'è al lavoro gente più seria e preparata.